ciao a tutti ragazzi io sono un tifoso del lecce e sto cercando di fare dei video su youtube almeno vorrei vedere se va bene questa cosa e sono nuovo diciamo di questo mondo vorrei vedere come va comunque io c'è l'abbonamento da da tanti anni da vent'anni c'è l'abbonamento vado allo strada quando sono piccolo come conosco un po di youtuber mi sta piacendo quel mondo e mi piacerebbe insomma farlo che vediamo come va vorrei parlare un po della partita del lecce ieri sono proprio fatto un casino un casino combinato per la terza vittoria consecutiva del lecce sono contentissimo sono proprio euforico alla grande cazzo li abbiamo spuntati l'abbiamo porca miseria siamo stato proprio ieri stavo proprio in agitazione perché non speravo insomma in questa vittoria nell'eguagliare il record di delio rossi e sono contentissimo è stata una partita veramente molto dura però ragazzi molto molto dura e ieri infatti lecce ha sofferto tantissimo perché loro poi l'hanno messa anche sul piano fisico è stata molto dura noi siamo stati comunque cinici sembravamo tipo una grande squadra con una piccola squadra che con due tiri in porta vinci la partita alla fine però abbiamo meritato anche loro non è che hanno fatto niente e noi siamo stati bravi nel gollo nelle azioni del gollo quello sul rigore specialmente maier è stato un grande e anche l'azione del secondo gol è stato bravissimo sia ciavo che che mancoso che ha fatto l'assist per maier che poi ha segnato quindi sono stato contento le prossime partite farò un video diciamo dopo la appena finisce la partita anche delle dirette dello stadio cercherò di fare qualcosa vediamo e vediamo come va sono un tifoso proprio verace proprio mi piace un sacco seguire il lecce sono proprio appassionato quindi vediamo come va ragazzi mi raccomando seguitemi e speriamo bene forza lecce vai cazzo vinceremo anche a roma spaccheremo tutto